Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato alle 10 mod più belle di sempre Cominciamo dalla numero 10 ragazzi, la numero 10 è la Ciselle La Ciselle ragazzi è una mod fantastica che a me fa impazzire soprattutto per costruire Anzi solamente per costruire perché è quello lo scopo della moda ragazzi Aggiungere letteralmente dei Ciselle, cioè degli scalpelli che ci permettono di scalpellare, di modellare Di modificare un qualunque blocco esistente in Minecraft e non solo, anche delle mod Ci sono talmente tanti blocchi che si può fare una struttura di qualunque genere Guardate ad esempio il legno quanti tipi ce ne sono, per non parlare ad esempio della cobblestone O della dirt addirittura, o della stone, ogni blocco ragazzi ha vari tipi di Ciselle E lì potete vedere qui sulla destra quanti ce ne sono una... Ci sono addirittura le zucche con le troll face, voi vi rendete conto, guardate qui, oh mio dio E potete costruire tutte le vostre megastrutture, i vostri templi, i vostri imperi, i vostri universi, le vostre case Ci sono talmente tanti tipi di blocchi colorati ragazzi, alcuni che fanno anche venire attacchi epilettici Oddio non proprio, sì può darsi ecco, non credo sia successo ma ragazzi qui, oh mio dio, gira la testa Comunque è veramente una mod fantastica, bellissima per costruire quello che vogliamo Purtroppo ragazzi merita solo il decimo posto per il fatto che è nient'altro che una mod che aggiunge blocchi Quindi non è nulla di complesso, sono semplicemente blocchi colorati E quindi non può meritare di più del decimo posto Ma è una mod veramente niente male quando si parla di costruire Non ha veramente nessun rivale in questo campo Al nonno posto troviamo la Railcraft La Railcraft ragazzi è una mod fantastica, a me piace tantissimo anche la Railcraft Non solo, anzi vorrei esprimere la mia emozione nel vedere tutti questi tipi di binari che sono fantastici Guardate quanti ce ne sono di ogni genere Incroci normali, incroci AT, incroci AX, incroci normali Track che ti sbalsano in aria Detector, track che individuano gli oggetti sui carrelli Binari alta velocità, roba veramente ragazzi incredibile Sistemi addirittura con segnali Guardate ragazzi, sistemi di controllo avanzato delle ferrovie tramite segnali E relay per poterli controllare con la Railstone e fare stazioni molto avanzate Sistemi di carico e scarico di materiale dai carrelli Veramente una mod che trasforma la rotaia di Minecraft in qualcosa di wow E non solo questo, aggiunge blocchi energetici Sistemi di controllo di energia, di farm di animali Sistemi di sicurezza, sistemi di commercio, motori Blastfulness, fornaci, macchinari avanzati Un bordello di roba Una mod che è veramente, totalmente completa Fantastica ragazzi, poi è molto molto stabile Una mod che non può mancare nessun pack Questa mod è d'obbligo, non può mancare Questa mod è stupenda Però merita purtroppo il nono posto Per il fatto che ragazzi non è aggiornata Purtroppo mi spiego che intendo Ovviamente è uscita l'ultima versione un mese fa Ma è una mod che esiste da quasi 5 anni E non hanno fatto grandi modifiche al sistema energetico Al sistema di gestione di minerali Purtroppo rimane sempre un addon Non è una mod, riesce a stare stand alone Ma al 50% dei macchinari Come ad esempio questo Come ad esempio questo Sono macchinari che servono ad altre mod Purtroppo la mod in sé può solo fare le rotaie per dire E per non parlare per un fatto di texture Per non parlare un fatto di concetto di macchinari Che è troppo vecchio E non riesce a stare al passo con le mod di oggi Che purtroppo la thermal Quindi ragazzi si merita solo il nono posto All'ottavo posto troviamo la RF Tools La RF Tools ragazzi è una mod fantastica Molto poco conosciuta E in compresa È una versione tecnica E molto più fixata Tra virgolette Della Mistcraft È una mod stupenda Che ci permette di creare dimensioni Di qualunque forma Di qualunque composizione Noi desideriamo completamente A nostro piacere E non solo Possiamo anche creare dimensioni randomiche In pochi secondi Ho bisogno di un nuovo mondo Voglio esplorare qualcosa di sconosciuto Inconsciamente impensabile Ci metto pochi secondi Basta fare questi piccoli passi Che sto facendo ragazzi E in un attimo Accederemo alla nostra dimensione Guardate quanto ci ho messo 10 secondi E sono qui In una nuova dimensione Totalmente casuale E sono finito in una dimensione Fatta di palli Palle di Firestone E di Tin Senza terreno Credo si c'è del terreno E queste palle di Firestone E di Tin Sono Piene Sono delle palle Piene di minera Una mod veramente stupenda Che genera anche mondi casuali Se ne desideriamo Però Ha un suo Ma Esatto ragazzi Purtroppo Creando questi mondi Creando queste altre dimensioni Crea gravi problemi a Minecraft Perché Ovviamente Se noi andiamo a costruire In queste altre dimensioni Andiamo ad appesantire il gioco E in multiplayer Se molti giocatori Potrebbero creare molte dimensioni Potrebbero distruggere un server In pochi secondi Quindi è una mod fantastica Ma per niente sta assolutamente no Nel multiplayer Multiplayer no Mentre in single player Gestita bene Potrebbe essere veramente Una mod fantastica Quindi Nonostante queste strane dimensioni Impossibili Di situazioni strane Mondi Fatti di un singolo materiale Palle di materiali Questa mod Ragazzi Purtroppo Merita solamente L'ottavo posto Al settimo posto Ragazzi Troviamo la Project Red La Project Red Ragazzi Una mod Che a me Fa impazzire Mi piace da morire Mi piace un sacco Il motivo è semplicemente uno Ragazzi Non sarebbe nemmeno Entrata in top ten Questa mod Perché purtroppo È vecchissima E non serve assolutamente a nulla L'unica cosa di utile Che ha Le decorazioni Cioè le luci colorate E i pimpine Capito ragazzi Proprio inutile Non serve a nulla Questa mod Ma ha un sistema Di controllo redstone Talmente avanzato Che voi non riuscite Neanche a immaginarlo Potete creare delle cose Assurde e indicibili Per farvi rendere conto Di quanto potrebbe essere Avanzata E completa A livello di controllo redstone Questa mod ragazzi Ho creato questo Piccolissimo Simpaticissimo impianto Che vi dimostrerà Come è possibile Trasformare il segnale Redstone Analogico Ascoltate bene le mie parole Che è scomplicatissima Il sistema redstone Analogico Creato da minecraft In sistema digitale Cioè praticamente In base Alla potenza Del segnale redstone Mandato da un comparator Posso cambiare Il segnale digitale Osservate qui In base all'intensità Il segnale redstone Ricevuto tramite comparator Cambia il colore Che si accende Ragazzi Questa è una cosa Che può sembrare banale Ma ci si possono creare Addirittura schede video Con questo sistema Voi non avete neanche idea Si possono creare Di processori Di sistema Di riproduzione video Una mod Veramente fantastica Che ci permette Di fare cose assurde E impensabili Quindi ragazzi Questa mod Assolutamente merita Minimo Ma minimo Il settimo posto Purtroppo Dato che ha solo Questa feature Quindi Una mod intera Che aggiunge un casino Di roba Per una cosa così banale Se facessero questa cosa Stand alone Magari sarebbe Molto più accettabile Come mod Magari scalerebbe Anche la classifica Quindi ragazzi Alla project red Diamo il settimo posto Al sesto posto Troviamo L'Advanced Generator L'Advanced Generator Ragazzi Una mod Che mi sta Apprendendo sempre di più E' una cross mod Che utilizza I fuel Delle altre mod Tantissimi tipi di fuel In più aggiunge Un suo tipo di fuel Chiamato il Syngas Producibile Tramite la mod Che ci permette Di trasformare Un qualunque liquido Un qualunque gas Un qualunque Qualunque cosa Di qualunque mod Conosciuta Meccanism Thermal expansion Industrial Craft Tutte quelle che volete Ragazzi Tutte le mod Che aggiungono Un tipo di fuel Ci permette Di trasformare Questo fuel In energia Tramite una serie Di turbine Molto avanzate Che possiamo Costruire Come noi Desideriamo E' questo ragazzi Che la rende La migliore mod Generatrice Di energia Ragazzi Ci permette Di creare La nostra turbina Totalmente A piacere Qualunque dimensione Qualunque forma Senza restrizioni Senza nulla Tramite un semplice Controller E una serie di turbine Ragazzi Messe in fila Possiamo creare Il nostro Generatore Di qualunque forma Dimensione Anche in questo modo Osservate Non importa Qualunque forma Abbia Ragazzi Conterrà tutte le turbine E sto collegato E genererà Determinata corrente In base alle turbine Che ha Una mod stupenda Che a me piace tantissimo Io la consiglio Io la consiglio In ogni pack Stabilissima Fantastica E merita Senza dubbio Il sesto posto Di migliore mod Di sempre Una mod Veramente stupenda Ragazzi Ve la consiglio Provatela Non la conoscono in molti Installatela E giocatela Perché è fantastica Veramente una cosa stupenda Compatibile anche con i gas Della meccanism Preciso Notare questa cosa Molto particolare Che è l'unica mod Che lo fa Che lo fa